Lo strappo in casa Terzo Polo è ancora il piatto caldo della discussione politica nazionale, anche perché tra Calenda e i renziani di Italia Viva continuano a volare stracci ad ogni occasione. Ma al di là del rimpallo delle responsabilità sono gli orizzonti, anche quelli vicini, che spaventano chi in quel progetto ci aveva creduto. Vale per il gruppo parlamentare, ad oggi unitario, ma vale anche per i tanti candidati alle elezioni comunali di maggio che erano stati individuati insieme. A serrare i ranghi questa mattina ci ha pensato Matteo Renzi, intervenuto a Radio Leopolda. Io faccio un appello a quelli di Italia Viva, non facciamo polemiche, non alimentate le polemiche, non rilanciate le polemiche, è andata, basta. Io tornerò nelle prossime settimane, nei prossimi giorni a parlare con gli amici di Italia Viva per cercare a questo punto di riorganizzarci noi, ma noi siamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione, intanto con azione, quindi sui territori per favore nessun fallo di reazione. Ho sentito ieri alcuni amici che volevano rompere le alleanze per le amministrative, oi, ma siamo matti? Cerchiamo di andare tutti insieme nella direzione di lavorare insieme. Il messaggio per ora sembra recepito, anche perché i margini per cambiare rotta sono quasi inesistenti. Il termine per presentare le candidature per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio scade domani a mezzogiorno. Così a Pisa, unico capoluogo in Toscana dove il terzo polo presenta un candidato unitario, al momento non ci sono avvisaglie di rottura e così anche per i tanti candidati civici opzionati dal terzo polo anche in assenza di una lista ufficiale. Siena invece appare oggi come la Cassandra, dato che già un mesetto fa era stata sancita la spaccatura tra azione e Italia Viva con due candidati che si contenderanno la poltrona di sindaco. Ma si tratta di un caso isolato, se anche nelle partite nazionali più importanti, come quella di Brescia, per adesso si getta acqua sul fuoco. Insomma, le tempistiche del naufragio del Partito Unico sembrano tenere a riparo i candidati alla prossima tornata elettorale, ma certo non si respira il clima più assicurante per chi ha legato il proprio nome a quelle sigle. E ben presto gli orizzonti saranno ancora più scuri quando, dopo l'estate, si entrerà nel vivo della maxi tornata di comunali del 2024, oltre 180 comuni in Toscana e contestualmente delle ambite elezioni europee. Il progetto del terzo polo, per quanto ci guarda, prosegue. Noi siamo un'anima riformista, abbiamo già dimostrato, come in questi aspetti, di potersi allargare alle esperienze popolari, liberali, civiche. Riteniamo irrazionale questo cambio di direzione che ha voluto fare Calenda. Noi proseguiamo in quella direzione e siamo ancora più convinti che in Italia debba esserci un'alternativa ai popolisti e ai sovranisti. Saremo noi ad essere un soggetto federativo in grado di attrarre intorno a noi altre esperienze. Lo faremo partendo dalla Toscana, nel quale siamo un soggetto di governo, siamo nella maggioranza e sono convinto che questo ruolo ci rafforzerà anche nelle prossime settimane e nella seconda parte del mandato.